Barbara Bertocchi, 44 anni, nata e vissuta a Carrara, due bambini stupendi e un marito artista con il quale gestisce da più di dieci anni uno studio di scultura tra le cave dove organizza corsi ed eventi culturali. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per dare il suo contributo per vincere le prossime elezioni e per mandare a casa questo gruppo di incompetenti arroganti che fanno di tutto tranne che il bene dei cittadini. Sogna con De Pasquale Sindaco di risollevare Carrara da anni di degrado ambientale, sociale e culturale o quantomeno potrà dire sui figli di averci provato.